Il programma di sviluppo manageriale è un percorso articolato in 18 tappe in Formula Weekend. Abbraccia a 360 gradi i temi principali della formazione manageriale e aiuta le persone che si trovano di fronte ad una sfida importante di carriera o di sviluppo della propria impresa ad affrontare i problemi con maggiore consapevolezza. Le parole chiave del corso sono formazione, esplorazione ma soprattutto sistematizzazione di concetti, etichetti e modelli che in qualche modo si acquisiscono con la pratica ma che poi è difficile mettere a sistema in maniera del tutto autonoma. I vantaggi di questo corso secondo me sono anche abbastanza evidenti perché si è in mezzo a un'aula molto eterogenea dove si può incontrare persone con diverse specialità professionali e quindi favorire lo scambio delle esperienze e poter anche arricchirsi di un nuovo network. Il vantaggio principale del corso è costituito nel fatto di aver potuto approcciare una materia che per quanto riguardava la mia provenienza di giornalista non avevo mai affrontato in prima persona. In questa fase di crescita della mia startup sto affrontando tematiche di crescita e consolidamento e di partnership con diverse altre società e ho bisogno di un arricchimento multidisciplinare. Dopo sette mesi di questo programma posso dire di aver acquisito sicuramente degli strumenti per far fronte ad un contesto ambientale sempre più complesso, di aver acquisito degli approcci strutturati con cui sostenere dei processi decisionali strategici e nonché di aver arricchito in maniera trasversale, cross-dipartimentale, competenze di hard skill e soft skill. Ho stretto delle relazioni professionali ma anche di amicizia con le persone che hanno frequentato insieme a me il corso e fondamentalmente questo mi ha permesso di migliorare, incrementare la mia rete di conoscenze. Se siete disposti a mettervi in gioco questo è il programma per voi, vi aspettiamo!